E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Sennix e oggi signori siamo tornati su Football Manager 2020 con il nostro Catania pronti da chi appare l'Europa, proveremo perlomeno, purtroppo questo sarà un episodio difficilissimo, credo il più difficile di tutta la serie, perché dico questo, tra l'altro ci sono anche delle novità, adesso seguitemi un attimo signori, novità organizzative, comunque oggi andremo a sfidare Roma, Torino, Inter, Fiorentina e Atalanta Vedremo ragazzi 5 partite, perché ne mancano esattamente 16 partite ragazzi, quindi qualora noi andassimo a fare le nostre canoniche 4, poi resteremo una settimana con 4 partite, non è possibile, quindi faremo 2 episodi da 5 partite, 1 episodio da 6, non vi preoccupate, l'heading sarà mega aggressivo, cercheremo di rientrare sempre tra i 25 minuti, farò del mio meglio Quindi oggi andremo a vedere ragazzi Roma, Torino, Inter, Fiorentina e Atalanta signori, così in modo, stiamo facendo questo proprio in modo da permetterci di poter fare la live sul mercato, la nostra amata live sul mercato giorno 17, domenica 17 ragazzi Quindi mi raccomando, già ve lo annuncio oggi in modo proprio ufficiale, domenica 17 ci sarà la nostra tanto amata live sul calcio mercato, vedremo anche quanti soldi ci daranno, quanto budget avremo Quindi intanto andiamo spediti verso la partita contro la Roma, ora registro ragazzi un po' di fila, un po' di seguito così in modo da andare belli veloci La classifica tra l'altro dice che siamo a 39 punti distanti, ben 6 punti al momento dalla Lazio che ha una partita in più Comunque lui Suarez è sempre il capo cannoniere della Serie A con 16 gol fatti in 22 partite, una grande prestazione, grandi numeri per lui se si conferma Bomber di razza, intanto siamo alla partita contro la Roma, siamo arrivati La formazione ormai sarà quella nostra classica, ovvero con Muric in porta, Porro, Kemp, Bastone e Sevic in difesa, Buccia Bacca, Bellingham, Moriba, Iota con Xadas a supporto di Suarez Aspetteremo il rientro di Bocicevic per far coppia con Suarez, intanto andiamo avanti, siamo contro la Roma quindi io voglio mantenere una mentalità ragazzi offensiva A prescindere dal nostro avversario, sono convinto che soprattutto in casa possiamo dar filo da torcere un po' a tutti La Roma invece scende in campo con un 4-2-3-1, Audaro in porta, Florenzi, Mancini, Franchini e Augustin sono in difesa Cristante e Pereira a centrocampo, Under, Loftus-Cic, Klaivert a supporto di Silva Lì davanti all'allenatore ancora Paolo Fonseca, complimenti per la squadra Allora, energico, abbiamo un conto aperto, ecco, noi usiamo sempre la vendetta come combustibile per far, per spingere il giocatore a far meglio C'è subito un'azione dopo un secondo, attenzione, Sevic verso Xadas, Iota, avanza Iota, sulla fascia sinistra la può mettere in mezzo C'è il pistolero pronto, cadi almeno, Iota, mannaggia a te, Iota Niente, comunque, riconcussivo palla, Bastoni, calma, Bastoni, con calma, Bastoni, ti prego, levatela, grazie Bellingham ancora per Bastoni, addirittura si appoggia a Muric, ricominciamo dal portiere, come sempre Bellingham, Moriba, il lancio per la Bucciabacca, bellissima azione questa del Catania Il tiro di Bucciabacca, un piattone che però si va a stampare sul palo esterno Pedro Porro verso Bellingham, Moriba, all'indietro per Bastoni, solo Catania, ragazzi, finora Ventesimo, Muric, il lancio lunghissimo, però è sbagliato, ma Moriba raccoglie il pallone La lancia verso Pedro Porro sulla fascia destra, la può mettere in mezzo, Porro, Iota, gol Di Iota, buono, 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 ok, andiamo, andiamo, andiamo in avanti Non le avrete viste tutte, ragazzi, ma abbiamo giocato solo noi, signori Guardate là, 5 tiri di cui 2 in porta, 0 ancora per la Roma A Bucciabacca ancora il Catani che può andare a raddoppio, niente, 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 va bene Quarante, guardate le statistiche, ragazzi, 14 tiri di cui 7 in porta Alla Roma, un tiro, 0 tiri in porta, signori, stiamo dominando È finito il primo tempo, intanto appassionato, anzi aggressivo, no, energico Non vi rilassate, signori, non crediate che il lavoro sia finito Sarebbe proprio un errore imperdonabile, soprattutto dopo una prestazione del genere Attenzione, c'è Undero, adesso la va a battere in mezzo, allontaniamo C'è Mancini, a rimorchio Silva, possiamo rubare palla e partire in contropiede Sì, no, peccato Suarez, vai Pistolero, ruba sta palla Florenzi, ancora l'indietro per Raudero La può appoggiare da Augustinson, ancora la Roma gioca l'indifesa rischiando molto Infatti va a sbagliare, Kluivert e non arriva sul palone Ken fa adesso il lancio per Pedro Porro su quella fascia destra Pedro Porro avanza il dribbling, bravissimo Pedro Porro, c'è Rimorchia, Bucciabacca, Moriba, Xadas, Moriba, Xadas Siltero, moh, era gollo questo, era gollo, l'avevo vista dentro, mannaggia Kluivert cerca l'imbucata, i giallorossi, no, 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 che brutto errore, che brutto errore Pedro Porro, che fai, che fai Allora, andiamo a mettere in baglie, togliamo a Xadas E a questo punto, supporto e supporto Chiediamo alle ali di resistere un po' E nel frattempo, vediamo se c'è qualcuno Ecco, Yota per Robin Hack, perfetto Ve prego, resistete, raga, ve prego Vi prego, vi prego, vi prego È un peccato mortale, ragazzi È un peccato mortale, lo sapevo, io lo sapevo Davvero, raga, abbiamo stradominato Abbiamo stradominato Guarda, 21, hanno fatto due tiri Hanno fatto, hanno fatto due tiri Cerchiamo di resistere, ragazzi Cerchiamo di resistere, concentratevi Mancano cinque minuti, davvero È stato, ragazzi, un peccato mortale questo È stato un peccato mortale Abbiamo strameritato La Roma ci ruba la partita, raga C'è poco da fare La Roma ci ruba la partita, comunque Siete stati bravissimi Peccato per quell'espulsione che ha condizionato Poi il gol Va bene, va bene Comunque fa ben sperare Questa prestazione fa ben sperare Elogiamo a Iota che è stato bravissimo Grazie Sono sette senza sconfitte Ripeto, ragazzi Difficilmente potremmo far meglio di così Visto che ne abbiamo vinte cinque su sette Immagino Quindi purtroppo davanti abbiamo squadre Come dicevo lo scorso episodio Che non si stanno fermando Quindi capite bene che è molto difficile Ora andiamo contro il Torino Che si trova decimo in classifica Esattamente nel mezzo Esattamente nel mezzo Quindi siamo in trasferta, immagino Sì, infatti Quindi cercheremo di andarci a vendicare Di questo pareggio strappato Di questo pareggio rubato Andando a vincere anche al grande Olimpico di Torino Allora, la formazione che sfiderà il Torino Ragazzi, abbiamo un sportello in porta Perché Muric è leggermente infortunato L'unica novità Voglio provare questo scripizzo tattico Ovvero Suarez attaccante di sostegno A supporto di Bocicevic Unica punta centravanti Vediamo un po' se funzionerà Ovviamente Suarez Come ruolo suo Fondamentalmente è una seconda punta Quindi poi ha un gran tiro da fuori Comunque può anche far male Un po' più distante dalla porta Quindi lo proviamo in questo nuovo ruolo inedito Vediamo come va Intanto ci prepariamo Sì, andiamo direttamente Andiamo, andiamo, andiamo Dai ragazzi Vediamo il Torino Invece si andrà a schierare Con un bel 4-2-3-1 Imprudente No, M prudente Ok, prudente, prudente Vabbè, anche un po' imprudente Mazzo, tutti in difesa Stanno a Torino Allora, Vange in porta Mana fa Bonifazzi, Papetti In bowlingoli In difesa Screcio Enricci Mediani Verdi Fofana e Collei A supporto di Arp Mazzo, sono tutti Molto difensivi Il Torino Quindi ci sposteremo in attacco Allora, siamo favoriti Per una ragione La ragione magari Sei tu, amico mio Dai Si parte, signori Quarantesimo 42-43 L'unica azione da segnalare È stato un gol annullato Ragazzi Al Torino Per nettissimo Fuori gioco Il primo tempo Va a finire Con lo 0-0 Reti bianchi Come si suol dire Non mi soddisfa per niente Quello che ho visto Dobbiamo fare leggermente Di più, signori Se vogliamo Portarci Il risultato a casa Quei due ammoniti Là sotto Kemp E Mbaye Attenzione Intanto Dov'era la palla Danzato Sulla linea Quel pallone Niente Mannaggia Allora, siamo al 65 Signori Io Non Non me la sento Di lasciare I due ammoniti Qua sotto Quindi togliamo Almeno uno Togliamo Mbaye Poi metterei Robinac Per Jota Che non si sta comportando Benissimo Oggi E sposterei Suarez Un po' più avanti Come seconda punta Vediamo un po' Se Avvicinandola alla porta Può essere un po' più pericoloso Domande più verdi Adesso sul calcio D'angolo La mette in mezzo Qua la palla Va a sbattere Sulla traversa Siamo fortunati noi Stavolta Però attenzione Il contropiede Forse potrebbe partire No, non parte Non parte 85esimo Mancano 5 minuti La squadra è su Molto offensiva Bonifazio Adesso il lancio Sbagliato Cesevic Lì indietro per Sportiello 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 S'appoggia Bellingham Kempf L'allarga Avanza Attenzione Perché c'è Abucebacca Pronta Pronta la somma Centralmente Moriba Mamma mia Ma che gol Ma che ha fatto Ma ammazza Che bomba Che gli ha sparato Moriba Da 30 metri Signori E l'avevo detto Che questo ci avrebbe dato Una grossa mano Abbiamo fatto già Tre cammino Andiamo a cambiare L'ultimo Così un attimo Ecco Mettiamo Esposito Per Bocicevic Va bene 1 2 3 Grandi Grandissimi Meritata Anche stavolta Le statistiche Lo affermano Grandissimo gol Qua di Moriba Che va Veramente A togliere Le castagne dal fuoco Parla la squadra Appassionato Una gran bella vittoria Una gran bella vittoria Comunque contro una squadra Non facile Da affrontare E appunto A proposito di squadre Non facile da affrontare Ho visto che l'Inter Adesso Fa capolino Il Catania Ha un posto All'Europa League Ragazzi Ci siamo anche noi Siamo ancora vivi Moriba splendido Grandissimo Elogia 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 Bravo 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 Ilex Va bene Adesso Contro l'Inter Ovviamente Siamo in casa E prima In classifica Sarà molto difficile Quel che verrà Verrà Ma non mi aspetto Una vittoria Ecco Speriamo in un pareggio Speriamo almeno in un pareggio Poi se sconfitta sarà Ragazzi Purtroppo Dobbiamo tener conto Anche di questo Intanto andiamo avanti E allora ci siamo ragazzi La formazione Quella più classica possibile Ovvero con Murci in porta Porro Kenf Bassoni E Sevic in difesa Abucebacca Iota Sulle fasce Bellingham E Moriba Padroni del centrocampo E poi Suarez Seconda punta Con Bogicevic Lì davanti Lasciamo ragazzi Mentalità offensiva In attacco Non me ne frega Una mazza Dell'Inter Di chiunque sia Siamo in casa Noi abbiamo La nostra tattica Abbiamo il nostro credo E lo porteremo Fino alla fine Avanti L'Inter Di Diego Simeone Invece Scende in campo Con un 4-4-2 Areola in porta Dyer Defray Screener Trinca In difesa Politano Barella All'anne Smithrow A centrocampo Salcedo E Areso Lì davanti Va bene Lino Baratto Contro Simeone Aggressivo Appassionato Allora Energico Dunque Non abbiamo in favore Del pronostico Ma non buttiamoci giù Andiamo là fuori E sorprendiamoli Vabbè Noi ci proviamo Vediamo un po' Che succede Speriamo in un pareggio Ragazzi Già Firmerei Per un pareggio Ma attenzione Bucciapacca Niente Iota La va a recuperare Pronto per il contro Grosse Sejovic In mezzo Moriba Niente Un nostro compagno Si è messo davanti Ma porca miseria Bastogna Lì indietro per Moric Che torna A difendere i pali Della sua porta Kemp Petro Porro Sulla destra Con molta Calma Su Arza L'appoggio Bucciapic Ma che Cazzarola di piede Storto che hai Moriba Attenzione Vi prego Petro Porro Che te pare Smithrow Grandessimo recupero Petro Porro Luis 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 Bucciapacca Portavuota Mamma mia Santa Già 2-0 Stavamo Già stavamo Sul 2-0 Ma comunque Stiamo giocando Anche contro l'Inter Poi a prescindere Da quello che sarà Il risultato finale Adesso c'è Arezzo In possesso palla Barella All'indietro per Dyer Politano Sulla faccia destra Centralmente Barella Ancora Politano Allan Cerca lo spazio L'Inter Il lancio Verso Dyer Che la mette In mezzo E qua c'è Smithrow Che Non perdona Niente da fare Va bene Mostrato un po' di grinta Dyer ragazzi Va bene Lo stesso Seovic Per Moriba E subito Si fa ruba palla Dai Regà però Concentrati No sta Mo' io lo dico Concentrati Un attimo Attenzione Arezzo Il tiro Grande Kemp Bravissimo Il lancio C'è Bogicevic Bravissimo Per Suarez Suarez Uno contro uno Si ferma Aspetta Che lancio Gli ha fatto Suarez Proprio Disegna calcio Concentrate Ma io lo posso Dio o no Ma porca miseria Ancora no Trinca All'indietro per Skriniar Iota Prende palla Iota Niente Mannaggia Il lancio Per Salcedo Che Mamma mia Ma dov'è la difesa Tutto solo Salcedo Niente Vabbè 2 a 0 Concentrate No io posso Dico Concentratevi Perché giustamente L'allenatore Può dire una cosa Ogni 20 minuti Mi sembra Normale Concentratevi L'Inter Ancora in possesso Palla Politano Il filtrante Per Salcedo Vabbè Adesso ragazzi Ci siamo lasciati andare Adesso ci siamo lasciati andare Quarantaduesimo 3 a 0 Niente Peccato perché Guardate un po' 15 tiri Ragazzi abbiamo fatto Però non Non si concretizza Aggressivo Ovviamente Avete fatto pena Avete fatto pena Eravamo partiti forti 15 tiri Di cui 9 importa 0 gol L'Inter 6 tiri Importa 3 gol Questa è la gran differenza Ragazzi Di avere Giocatori che poi Alla fine La buttano dentro Rispetto a noi Che la buttano fuori Dallo stadio Andiamo Andiamo a fare Dei cambi Al 66 Leviamo Porro Mettiamo Somma Ragazzi Più che altro Perché sono Ammoniti Non peraltro E poi Direi Yota No Yota è già dentro Scusate Robin Huck Vediamo un po' Chi sta giocando Malissimo Yota No Addirittura Buccia Bacca Ancora peggio Di Yota Pensate Quanto è scarso Mettiamo Xalas Va bene Politano Adesso Lo va a mettere In mezzo Adesso Dobbiamo cercare Più che altro Di evitare L'umilazione Ecco Somma In avanti Vediamo se c'è Il gol Della bandiera Somma Ancora Bocice Yota Va a fare Il 3 a 1 Quando mancano 20 minuti Noi ci proviamo Ovviamente Ci spostiamo Su offensiva Come mentalità Ma Poco Proprio L'1% Di speranze Abbiamo Suarez Somma Ancora Suarez Un'altra partita In ombra Per il pistolero Qua addirittura Si addormenta Vabbè Bernie Il tiro E qua va a fare Addirittura Il 4 a 1 Con Muric Che sempre Prende farfalle Alla saponetta Con i guanti Va bene Niente 4 a 1 Vabbè Ci sta Ragazzi Contro la capolista Ovviamente Ci sta Non siamo ancora In grado Di poter Competere Con lo scudetto Comunque Non sono felice Del risultato A prescindere Appunto Dalla sconfitta O meno Ci poteva stare Questa sconfitta Assolutamente Il Catania Interrotto La serie positiva Soprattutto Dopo 8 partite Di risultati Utili Consecutivi Adesso Siamo contro La Fiorentina Che a inizio Campionato Era Ventesima Con 0 gol Fatti 0 niente Tutte perse Adesso Sta Naviga E nacque Più tranquille Metà classifica 27 punti Quindi Siamo in casa Per lo meno Adesso Siamo No Sempre Oh ma Sempre Ah no Abbiamo giocato in casa Vabbè In trasferta Quindi andremo All'Artemio Franchi Contro la Viola Speriamo bene Almeno di vincere questa Ed eccoci qua Ragazzi Il nostro malgrado Dobbiamo andare a fare Dei cambi Molto importanti Perché purtroppo Sia Iota Che Suarez Sono infortunati Suarez Per due settimane Iota Per quattro giorni Va bene Allora Muric in porta Poro Kemp Bastone Sevic In difesa Abuccia Bacca E Hac Sulle fasce Bellingham Moriba Centrali Toffol Montiel A supporto Di Bocicevic Lì davanti La forma partita Di Montiel E anche di Hac Abbastanza bassa Nonostante io li abbia messi Comunque Disponibili Per l'Under 20 E comunque Va bene Andiamo avanti Vediamo che succede Vediamo la Fiorentina Con che formazione Si andrà a schierare Con un bel 4-1-2-3 Belli offensivi Di Stefano Pioli Cragno in porta Munie Gnagnon William Gabriel Gessus In difesa Sergio Mediano Castruvile Gano Centrocampisti René Adelaide Aubameyang Supporto di Milik Reine Adelaide 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 Vabbè Credo che si dica così E credo Ok Parla la squadra Aggressivo Mi aspetto Un'apprezzazione di gran lunga Migliore oggi Dai ragazzi Forza La Fiorentina Si può battere Lì davanti Hanno nomi Che fanno paura È vero Però Sono anche Abbastanza in là Con l'età Se vogliamo Una formazione Abbastanza vecchia Questa Dalla Fiorentina Come età media 44 Ragazzi Non è successo Assolutamente Nulla Abbiamo Giocato di più Abbiamo creato di più Ma come sempre Ragazzi Non finalizziamo Quindi andiamo sempre di aggressivo Non sono felice Della prestazione Comincia il secondo tempo E vediamo Se riusciamo a fare qualcosa di meglio Se riusciamo a buttarla dentro Per una volta Porca miseria Porca La Fiorentina Adesso è in possesso Palla Promise Attenzione La punizione C'è il gol Ovviamente di Arcadius Milik Perfetto Offensiva Mostrato un po' di grinta Posso domandare di più Qualcosa Niente Non posso Posso dire una cosa Ogni 20 minuti Va bene Pedro Por Adesso il Catania In avanti Montiel Pedro Por Bocicevic Gol E fai Daglielo Sto povero Cristo Che ha 18 anni E non spezziamogli Il sogno del gol Va bene Bocicevic Va a pareggiare Domandiamo di più Daglie che l'andiamo a vincere Daglie che l'andiamo a vincere 69esimo Andiamo a cambiare qualcosa Kenf Lo leviamo Perché è ammonito Mettiamo somma Poi proviamo Robin Huck Lascia spazio A Sottil Per il resto ragazzi Va bene Conferma le modifiche Vediamo che succede Pedro Por Ancora per somma Il lancio Verso Bocicebacca Che la stoppa Il filtrante Bocicevic No Mamma mia Mi uccido Mi Dove Mi sbatto la testa Ogni volta Perché miseria A Bocicebacca È bello stanco Ragazzi Andiamo a mettere Xalas Vediamo se riusciamo A cambiare qualcosa Niente ragazzi Finisce 14 tiri Di cui 8 importa Ma sempre Non riusciamo A finalizzare al meglio Un altro pareggio Non sono felice Della prestazione Mi dispiace Per Pedro Por Che è demotivato Ovviamente Lui è il migliore In campo In campo Poteva Capisco Il suo Malessere Però Elogiamo La sua prestazione Continua così L'ultima partita Ragazzi Siamo sempre Al settimavosto Contro l'Atalanta Che è quindicesima In casa Questa Ragazzi Deve essere Una vittoria Scontata Deve essere Una vittoria Che può Ancora alimentare Il sogno Europa League Perché Qualora Non vincessimo Signori Credo Che potremmo Già dire addio Al sogno Europeo Quindi Stiamo attenti Proviamo Ci diamo il nostro Meglio Vediamo che succede E allora Siamo pronti Per questo scontro Importantissimo Muri ci importa Poro Graviglion Bastone Sevic In difesa Graviglion Va a prendere Il posto Di Kemp Che è Squalificato Poi Abuccia Bacchac Sulle fasce Bellingham Moriba Centrocampisti Centrali Toffol Montiele Che vorrei Spostare Come Rifinitore Anzi Come attaccante Di sostegno Lo avanziamo Più vicino A Bocicevic Benissimo Confermiamo la formazione Signori E partiamo Vediamo Dobbiamo attaccare Fin da subito Ah siamo nel 2024 Addirittura Vabbè Attacchiamo Fin da subito E l'Atalanta Con un 4-4-2 Gollino in porta Isele Varnier Bettella Petretta In difesa E lì è Murgia Con Pessina E Avila Centrocampo Bordieri E Vlaovic Il nostro Dusan Il grande ex Però la squadra Aggressivo La stampa Vi ha elogiato molto Dimostrate a tutti Di meritarvi Quei complimenti Oh subito Un'azione dopo Due secondi Attenzione Montiel Graviglion Verso Bellingham Sulla fascia Adessa c'è Petro Porro Che riceve Centralmente ancora Per Graviglion Avanziamo a piccoli passi Graviglion Petro Porro Bellingham Il centrocampo Dialoga che è una meraviglia Montiel ancora per Bellingham Moriba Bellingham Moriba Bellingham I due centrali Seovic Si smarca La mette in mezzo A Buccebac Niente Gollini Il rilancio Ancora Catani E Bojicevic Per Robinac Moriba Ancora Verso Seovic Sulla fascia sinistra Può avanzare Si appoggia Robinac Il dribbling Non riesce Ma la palla resta là Seovic Ac Moriba Il tiro Ma che cos'ha Che cos'ha Una mina C'ha Una bomba Un missile Terraria C'ha a posto del piede Quel Moriba Grandissimo Subito 1-0 Dopo 5 minuti Ancora Moriba Ancora in mezzo Bojicevic Niente Porca miseria Siamo al quarantesimo Guardate quanto cazzarola Criamo E quanto facciamo fatica A segnare Ragazzi Una cosa incredibile È una cosa incredibile Vlaovic Guarda Eh Meno male Abbiamo fatto Ragazzi Fammi vedere Un attimo Le statistiche Abbiamo fatto 18 tiri Di quei 9 Va in porta L'Atalanta Soltanto 2 E siamo avanti Di un solo gol Come sempre È pazzesca Questa cosa Che ogni volta Non si riesce mai a segnare Moriba Intanto Sevic Sulla fascia sinistra Vediamo se riusciamo Ad andare a raddoppio Per favore In mezzo Buccebacca Non riesce a prendere la palla C'è Pietro Porro Centralmente Bellingham Ancora per Moriba Bellingham Moriba Ci può riprovare Lui ha una mina Posso del piede Moriba Non riesce a trovare lo spazio Ancora Bellingham Niente Ci pressano come dei pitbull Camaschi Montiel Il tiro Buccebacca Niente Mamma mia Finisce il primo tempo Signori spogliatoi Parla squadra Aggressivo Non mi soddisfa per niente Non ha importanza Che siamo un gol avanti Signori Ma non è possibile Che ogni volta Non riusciamo a segnare Va bene che manca Suarez Però porca miseria I giocatori Ce l'abbiamo comunque Per poter far gol E a Buccebacca Vediamo In mezzo No Non ci credo Mamma mia La palla che danza Su quella linea Non entra Vabbè ma abbiamo Una sfortuna Che è fuori dal comune Incredibile Settantesimo Signori Iniziamo a fare dei cambi Dai Iniziamo a fare dei cambi Toffor Montielo Non sta giocando benissimo Voglio provare Al buon Sottil Poi Iota Può andare Per il Robinac Beh beh Per adesso Il tiro C'è il tiro C'è Muri C'è la vara Meno male 85 86 Andiamo a fare L'ultimo cambio Mettiamo Xadas Per Abuccebacca Dai Xadas Per Abuccebacca Conferma Andiamo avanti Mancano 4 minuti Signori Ci portiamo a casa Questa vittoria Sofferta Senza motivo Perché abbiamo fatto 14 tiri in porta 25 totali 14 in porta Davvero Incredibile Ragazzi La quantità di gioco Che creiamo E la quantità Di palle Che sbagliamo Contemporaneamente Una gran bella vittoria Comunque ben fatto ragazzi Dovamo vincere Abbiamo vinto Solo una 0 Ma va bene Aspettando Il ritorno Di Luis Suarez Moriba Ci va a salvare Ancora una volta Meno male Che lo abbiamo preso Per due anni Ricordo almeno C'è Lo abbiamo Ok Dunque Vediamo subito La classifica Sono curioso Siamo ancora Settimi 47 Siamo a più C A meno 5 Una partita in più E qua è difficile Qua è veramente Impossibile Signori Facciamo giocare Alla serie A E poi vediamo Allora La classifica Recita Signori Che siamo A meno 7 Dalla Juve A meno 6 Dal Napoli Per quanto riguarda Quinto e sesto posto Sarà molto Molto difficile Mancano Esattamente 1 2 3 4 5 6 7 11 partite Non lo so Ragazzi Ci proveremo 33 punti Sono tantissimi Potenzialmente Ovviamente Ancora Però Lì davanti Abbiamo due squadre Che sulla carta Sono ovviamente superiori a noi Ma comunque Il prossimo episodio Invece Andremo ad affrontare Sassuolo Sassuolo Chievo Udinese Bologna E Brescia Allora Sassuolo Chievo Bologna E Brescia Allora Sassuolo Chievo Ok Udinese Do sta L'Udinese Non c'è Ecco La Bologna E Brescia Comunque Sulla carta Ragazzi Potremmo anche Andare a fare 5 vittorie 5 vittorie Abbiamo 5 incontri Vediamo Di quanti In casa In casa Ne abbiamo 1 2 E 3 3 in casa 2 in trasferta Vabbè ragazzi Fatemi sapere la vostra Qua sotto Nei commenti ovviamente Lasciate un bel like Qualora vi fosse piaciuto il video Condividete Per farlo conoscere A tutto il mondo Iscrivetevi al canale Qualora vi piacessero Tutti questi bei contenuti Noi ci vediamo Più tardi Con un nuovo video Alle ore 16 Se no domani Sempre qui insieme Tutti all together Ciao Ciao